Benvenuti nella rubrica che si tiene una volta al mese film a caso, il film di oggi è Rosemary's Baby, cominciamo! Film di Roman Polanski con Mia Farro, John Cassavetes, Ruth Gordon, Sindley Blackmare del 1968. Una giovane coppia si trasferisce in una storica casa, tristemente famosa per episodi di macabra violenza. I stravaganti vicini hanno sin da subito numerose premure e attenzioni nei confronti della donna e si presenteranno vari eventi, insoliti e singolari. Il tutto degenera in maniera inquietante nel momento in cui la coppia decide di avere un figlio. Lo spettatore si immedesima con i due coniugi e andando avanti con la trama si chiede spesso come avrebbe reagito lui al loro posto e calandosi nella situazione cerca di dare una quadra oggettiva al tutto, senza cedere alle paranoie o senza prendere fin troppo alla leggera le varie vicende. Quindi il pubblico, immergendosi nella narrazione e immedesimandosi così tanto con i personaggi, non essendo mai d'accordo con le loro impressioni, si trova ad urlare allo schermo. Nelle situazioni in cui i protagonisti sono allarmati dagli eventi, il pubblico li vorrebbe spronare alla leggerezza e al contrario, quando sono rilassati, vorrebbe svegliarli dal torpore di informarli che qualcosa di tremendamente pericoloso sta per accadere. L'iniziale situazione, fatta di piccole suggestioni, culmina e al suo piccolo terrore, in una delle sequenze più straordinariamente magnifiche della storia del cinema, ovvero il sogno di Rosemary, che definire inquietante è un eufemismo. La protagonista si sentirà sempre di più messa da parte dal marito e perciò lo spettatore si interfaccerà solamente con le sue angosce. Le cortesie dei vicini divengono più inopportune e invadenti possibile, ma ancora più irritante è che il personaggio di Guy non condivide i pensieri della moglie, lasciata sola e incompresa nei suoi tormenti. Se inizialmente il pubblico ha come punti di riferimento entrambi i coniugi, che reagiscono allo stesso modo ai vari avvenimenti, successivamente i loro sguardi entrano in conflitto e il punto di vista femminile rimane schiacciato. Il film è scandito da decessi e disgrazie fuori campo, che mettono nella narrazione una certa suspense e una sensazione di impotenza nello spettatore, che non può controllare l'andamento di tali macabri eventi. Il pubblico comprende i timori della protagonista e soffre nel vederla intrappolata mentalmente, costretta a seguire i consigli medici dell'idolatrato dottor Sapiestein e incapace a dire di no. Il taglio di capelli e il cambio di look che intraprende Rosemary, di cui poi si pentirà successivamente guardandosi allo specchio, è un grido di richiesta di libertà in un ambiente che sembra toglierne poco alla volta sempre di più. Quando poi il personaggio principale inizia ad indagare sulla vicenda, sempre più asfissiante e claustrofobica e a presupporre un'orribile verità, lo spettatore spera che la protagonista si sbagli e che le sue supposizioni siano solo frutto di comprensibili e comuni paure da madre, perché in caso contrario confrontarsi con la malsana verità sarebbe difficile da accettare. Vi è un crescendo di emozioni vibrante che raggiunge picchi di terrore considerevoli, dove tutti gli incubi di Rosemary prendono forma implacabilmente. Oltre al taglio di capelli, una delle poche decisioni, che la protagonista sembra riuscire a prendere senza venire fronteggiata da altri personaggi, è la scelta del nome del figlio, che però nel finale si scopre essere già deciso. La borghesia e il successo svelano il loro maligno e doppio giochista volto e contemporaneamente l'istinto materno si rivela più potente di qualsiasi sconvolgente rivelazione. Uno degli horror più influenti della storia del cinema, tassello imprescindibile per ogni cinefilo.